Devo utilizzare questi due nodi per dire che non porterò la relazione perché durante questi cento giorni io ho un rischio di risulta che ha lavorato, che si è impegnata, nonostante il periodo delle ferie, però il Consigliere lo ben chiarito e ci potrei dire tranquillamente caro Consigliere se facciamo la vista delle cose che non sono state fatte negli ultimi cinque anni probabilmente andremo fino a domani mattina e quindi distruggere si fa molto in Francia, bisogna vedere che cosa avete costruito anche prima e che cosa costruirà questa nuova vita, sicuramente il dottorato non vi ha dato la propria fiducia, tanto è vero che non siete stati scoffetti in campagna elettorale, per cui se vogliamo andare a vedere il cancello che non è stato verniciato negli ultimi 10 anni, oppure vogliamo vedere per quanto tempo il comune e tutta la cittadinanza ha dovuto subire la sporcizza dell'estate in ultimi 5 anni, io non chiudo perché non mi interessa solitamente entrare in polenta, però mi sarei aspettato magari qualcosa di più positivo, di più costantivo, poi vogliamo ottimizzare così, va bene, ho piena fiducia in questa giunta, per cui la studiarò e mi auguro è stato un po' di più la nostra volontà, perché adesso sono controllate Come se volete, chi si chiudi ammissosa? Come se scegliete i nuova, per cui la più opera la comunità è un'altra A un opere di più, per cui sarà delle esperate, dove si trannevano un u Bongini